Saranno celebrati nella giornata di venerdì alle 16.30 i funerali di Stella Boccia nella chiesa evangelica di Foiano. I familiari della giovane vittima della tragedia di Genova hanno deciso per una cerimonia più intima e raccolta rispetto ai funerali di stato collettivi alla quale avranno accesso solo parenti, amici più stretti e tutte quelle persone che le volevano bene. Su richiesta della famiglia non sarà invece consentito l'accesso a telecamere e flash. Anche la famiglia di Carlos ha deciso per un rito in forma privata la cui data non è stata ancora decisa. I familiari ripartiranno per Genova per riportare a casa la salma. Sabato sarà allestita la camera ardente nella cappella di Capolona. Pare siano in arrivo anche molti amici e parenti che vivono in Peru che si stanno mobilitando per raggiungere l'Italia per poter fare l'ultimo saluto a Carlo. Stella e Carlos si trovavano in vacanza, erano fidanzati da circa otto mesi. Lui di origine peruviane lavorava in un ristorante di Via Crispi, lei invece in un negozio di calzature a pochi metri di distanza. Una ragazza con cui la vita era già stata molto dura per la perdita percoce del padre quando era una bambina. Procchio a lui aveva dedicato bellissimi pensieri su Facebook ed era molto legata alla sua famiglia, alla mamma, al fratello che gestiscono il ristorante Il Pescatore di Monte San Savino, mentre altri componenti gestiscono altri noti ristoranti di successo, o Billis ed il Vesuvio. Carlos aveva fatto le scuole a Capolona, veniva considerato uno del paese facendosi benvolere da tutti. Una tragedia che malgrado le polemiche e i tentativi di spiegazione di queste ore rimane senza senso, lasciando spazio solo a un sordo dolore.